E' stata Medea, Tosca, Norma, è stata diva tra le più applaudite donna infelice. A 40 anni dalla sua morte, il teatro della Scala di Milano ricorda con una mostra Maria Callas, che in quel teatro si esibì in performance storiche. La Scala, come tradizione, come qualità d'orchestra, come coro, come messa in scena, come serietà del lavoro, di lavoro, offre il meglio che c'è e per me è il tempio dell'acqua. In esposizione, foto di scena, cartelloni, costumi, cimeli e il racconto di connubi artistici speciali. Callas con Lucchino Visconti, Zeffirelli, von Karajan. La mostra comprende anche la registrazione di storiche esibizioni rimasterizzate. Maria Callas in scena, agli anni alla Scala, sarà al Museo della Scala fino al 31 gennaio.